Prima di tutto, mi verrebbe da dire se facciamo un mito che le tradizioni vengono dal passato, nel senso che siamo noi che decidiamo cosa ci vogliamo portare dietro dal passato. E quindi, questo perché lo dico? Perché appunto, quale è la difficoltà degli insegnanti che non si legano? E quello è un dato di fatto nel rapporto che si può avere nel momento in cui si parla di tradizioni. Se un insegnante rimane un anno, non è detto che appunto trovi una corrispondenza con quanto viene proposto, ma non perché non interessi, perché probabilmente guarda ad un altro tipo di tradizione, cioè guarda ad un altro modo di leggere un passato che proviene probabilmente anche da una cultura d'origine, l'appartenenza familiare, spesso appunto ci sono movimenti di relazioni, quindi la tradizione è qualcosa che noi ci illustriamo quotidianamente oggi. Questo è un dato di fatto. è qualcosa che cambia nel tempo, cambia di generazione ed è bene che succeda perché altrimenti si è disparito. Fino a quando, diciamo, c'è una sorta di riconoscimento, è anche una sorta di adattamento, per quanto uno possa anche sentirsi distante, se un giovane reinterpreta un canto o lo riedatta o lo arrangia anche musicalmente, in realtà sta passando qualcosa, c'è una forma di riconoscimento, altrimenti si ristallita un tempo, uno spazio che è appunto un libro, una registrazione, così si faceva una volta, ma se quel tipo di canto, quel tipo di parola, quel tipo di corrispondenza non trova un legame con l'oggi, probabilmente quella tradizione finisce, come finisce tutto nel mondo, come finisce anche il riconoscimento su quello che noi consideriamo patrimonio culturale, non tutto il patrimonio culturale che noi consideriamo oggi è sempre stato quel patrimonio culturale, non tutto quello che noi consideriamo un valore culturale o una forma d'arte è stato in passato, quindi dobbiamo sempre tenere presente che ragioniamo su un nostro modo di porci di fronte a qualcosa che in qualche modo nel passato è arrivato, vuoi anche per caso, non è detto che nel passato ci sia sempre stato qualcuno che a trasmissione volte arrivano anche per caso di cose, e ci dobbiamo chiedere se ci sono utili, cioè se noi in qualche modo su quelle forme di tradizione possiamo trovarci un senso oggi, ed è il famoso problema che si ha con l'utilizzo anche di tante parole, quando ci lamentiamo che scompaiono le parole, ma perché scompaiono? perché probabilmente si riferiscono a degli usi o a del buonasera, a un modo di porsi in un contesto sociale, familiare, economico, che non ci corrisponde più e noi ne usiamo più quelle di pagare, ne perdiamo, perché non hanno più un valore d'uso, la lingua è qualcosa che si muove, la lingua è qualcosa che si trasforma, ma le tradizioni sono questo, siamo abituati a pensare che sia qualcosa di passato che ci tramandiamo, ma in realtà lo scegliamo di volta in volta, lo scegliamo di volta in volta, nello scegliere costruiamo però un processo interessante, costruiamo un processo di patrimonio, perché siamo noi che decidiamo che un determinato contesto, una determinata storia, un determinato quanto hanno ancora valore, cioè noi ritroviamo un valore che cerchiamo di trasmettere agli altri, a volte ci riusciamo, a volte non ci riusciamo, dobbiamo essere consapevoli che non è un fallimento personale se qualcosa non passa, ma probabilmente dipende da tutta un'altra serie di fattori che non trovano più corrispondenza con quella dimensione, e allora ci dobbiamo interrogare su quale senso può avere quel tipo di canto oggi, quale valore può avere quel tipo di idea di tradizione, se, come accadeva sempre e quasi sempre, insomma il contesto del canto era prettamente legato per esempio a un ambiente familiare, allora chiediamoci se oggi possiamo riutilizzare la forma del canto in un nuovo contesto familiare che magari si è andato a creare, quindi come ce ne portiamo? Perché vi dico questo? Perché ognuno ha una propria idea di tradizione, ognuno ha una propria idea di valore, ognuno ha una propria idea di patrimonio, non è detto che corrispondano agli altri, ciò che per me è importante non è detto che sia importante per Umberto, non è detto che sia importante per Lucia, nonostante io che riconosca un valore, come Lucia riconosce un valore ad altre cose, è lo stesso Umberto, allora il problema della tradizione, il problema anche di quello che sono queste forme del patrimonio, è provare a trovare una strada oggi nella quale possano continuare ad avere un valore, quindi scavare, scavare a monte quanto si usavano, perché li si usavano, a che cosa servivano, servivano per stare insieme, allora il punto è, bene, proviamo a creare una socialità attraverso queste forme di patrimonio, consapevoli magari vanno adattati, perché i ragazzi di oggi non sono quelli di 50, e quindi probabilmente sono suoni, parole e anche gesti che non capiscono, perché semplicemente sono nati, cresciuti in un'altra società, quindi è diventa veramente articolato il processo della tradizione, sulla tradizione si costruiscono ancora oggi le comunità, perché magari si realizza appunto un gruppo nel quale ci si riconosce, è una comunità di appartenenza che tiene insieme un gruppo di persone, perché in qualche modo su un canto, su un ballo, su un maggio, ancora oggi ci troviamo un senso. In quel caso che cosa siamo? Sì, portiamo avanti la tradizione, però ovviamente non portiamo mai avanti quello che era per i nostri nomi, portiamo avanti quello che noi pensiamo sia quella tradizione, sempre, come comunità di appartenenza, come comunità di sentimento. Appunto, lei dall'America si trova inserita in questo contesto, perché ha una sorta di comunità di sentimento rispetto a forme di tradizione che sta conoscendo, nel quale trova un senso, trova un significato pur provenendo dall'altra parte del mondo. Quindi non è neanche più detto che la tradizione sia un discorso prettamente locale, anche se l'abbiamo ricavata in un territorio ben preciso, perché magari la rimettiamo in circolo su nuove dinamiche e persone che non sono di questa zona la riprendono perché ci trovano un valore, un senso. Quindi bisogna stare attenti perché ha sempre una dimensione temporale, ha sempre una dimensione spaziale, soprattutto oggi nella valore, appunto, abbiamo una possibilità di comunicare con il mondo intero. Quindi ben venga appunto il portare avanti un'idea di tradizione. Capisco che sentirsi dire una cosa del genere può restabilizzare, ma è il punto di partenza per dare un senso a quello che per noi ha valore ancora oggi, altrimenti rimane chiuso in un gruppo ristretto che va benissimo, per Befaro non è che non va bene, però rimane lì. Se per noi quello ha un valore che vogliamo portare oltre, dobbiamo provare a ragionare con l'oltre, dobbiamo provare a ragionare con chi ci sta intorno. Un ragazzo di 15 anni perché oggi dovrebbe cantare il maggio? Questa è la domanda che ci vogliamo fare, non perché io mando il maggio, quindi per me è importante, ma perché un ragazzo di 15 anni dovrebbe scegliere di cantare il maggio. Cosa trova nel maggio? Cosa potrebbe trovare? Allora, può trovare un gruppo di amici? Può trovare il valore della storia, il valore della parola, magari un collegamento con un nonno perché fin da piccolo il nonno gli raccontava? Cioè ci possono essere tanti aspetti che avvicinano anche generazioni completamente distanti da quella che per noi è l'idea della tradizione, ma con le quali possiamo provare a instaurare un dialogo. Nelle comunità questi erano momenti, un tempo di raccoglimento, che fosse un raccoglimento familiare, il cantare per i figli, o fosse un raccoglimento di una comunità attorno a una dimensione di festa, di lutto, di rito di passaggio, quello che volete. Era un modo per stare insieme. Oggi le comunità stanno insieme? Questo mi pombo, questa domanda. Stiamo insieme? C'è questa comunanza, questa volontà di condividere? Allora, andiamo a capire dove vogliamo condividere. Quando è che si condivide? Di solito sì, quando c'è una sagra tutto il paese di solito collabora, quanto meno una buona parte del paese collabora. Allora, quella ancora è rimasta una forma di condivisione. Poi, se ci pensate, non condividiamo. Siamo connessi, ma non condividiamo più. E quindi, forme che permettevano un momento, come posso dire, uno spazio-tempo che portava tutta la comunità in una dimensione che serviva alla comunità stessa per andare avanti, non ci sono più. E quindi ecco perché poi c'è il problema di come porto oggi la tradizione, come lavoro con la tradizione. Questo è un aspetto. Il secondo aspetto è la costruzione che noi andiamo a fare di forme di patrimonio culturale attraverso la tradizione. Anche qui ci sono vari livelli. Quello che fate voi è una forma di, è un processo di patrimonializzazione, si dice dal basso, cioè siete voi come il gruppo, come la comunità, che andate avanti, vi portate avanti. Il lavoro che fa Umberto è già diverso. Umberto lo fa dall'alto, cioè è già un'istituzione che sceglie, seleziona, struttura, conserva, analizza, pone già un altro livello di dialogo su una forma di patrimonio, su una forma di tradizione. Quindi sono tutte dinamiche oggi molto articolate, sulle quali non c'è più solo il livello di condivido un canto, condivido una condizione familiare. Cioè si va a innescare un meccanismo complicato. Quando una tradizione arriva dentro il museo e riparte dal museo in un contesto territoriale, abbiamo già un livello più articolato rispetto a voi che come gruppo vi muovete a fare un laboratorio educativo. Siete diretti con i bambini, diretti con gli insegnanti. La figura, ora dico Umberto, ma dico, intendendo il museo, è già un mediatore. Quindi c'è già un ulteriore livello di lettura di quello che per voi rappresenta la tradizione, perché quello che rappresenta per il museo è il vostro valore, più tutta un'altra serie di valori che sono legati a un'idea che può avere un museo e conservare una tradizione. Quindi non è semplice, non sono dinamiche semplici, più molte volte diciamo ma non interessa più a nessuno, noi i giovani non le seguono, non si trova nessuno, non c'è più voglia di poterle fare, non c'è più voglia di poterle cantare, queste cose le ho sentite un'infinità di volte, ma in realtà è perché dobbiamo scavare dentro queste forme della tradizione per andare a cercare quei punti di contatto che oggi possono essere utili a nuove forme di collettività. Se non c'è più gli anziani che cantano e non c'erano più gli anziani che cantano, quindi o accetto che non ci sono più anziani che cantano e quella roba sta in un registratore e me l'ascolto se li voglio studiare o se io penso che siano veramente importanti quei canti perché c'è tutta una storia dietro che per me ha un valore sociale, familiare, collettivo, e beh devo provare un'altra strada perché questi canti continuino. Devo provare a leggere in un contesto contemporaneo, altrimenti rimango lì, non se ne esce. E questi sono i famosi processi di patrimonializzazione, cioè costruzioni di patrimonio, costruzioni di valore, di forme di riconoscimento, di un valore che noi diamo ad un canto, ad una parola, ad un vedro, ad un gruppo. Questo lo si vede, allora diciamo, è più facile percepirlo quando abbiamo a che fare con degli oggetti fisici, un museo. La famosa valorizzazione di un quadro, di un vaso, quante volte l'abbiamo sentito? Perché lo abbiamo lì, stare lì dentro in una terra, sappiamo che tanto non possiamo usare, non possiamo toccare, lì dobbiamo però dare un nuovo senso oggi, lo raccontiamo. Allora lì lo capiamo, però quando io ho a che fare con qualcosa che innanzitutto mi gioca personalmente, e poi soprattutto è così, effimero, volatile, come appunto può essere un canto, può essere una rappresentazione, allora lì mi devo rendere conto che il mio livello è più difficile anche da da comprendere, da far capire. Se io dico a un ragazzino che quello che sta in un museo è importante, magari lui ci crede oppure no, mettiamola così, però tutto sommato lo vede in uno spazio chiuso e diceva allora se ce l'hanno messo che valore ce l'ha? magari non gli dice niente, però magari perché sta lì qualche valore ce l'ha? Beh, un canto o una storia che raccontava la nonna, come faccio a dirgli che ha valore? Lo porto dentro un museo? Sì, può essere una strada, ma non funziona. Allora devo lavorare su altro, devo andare all'interno della collettività e lavorare con la collettività perché poi se uno vuole riconosce un valore oppure può anche decidere che non riconosce più altro un valore perché sta in un'altra dimensione, interessa altro.